Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono a presentarvi un'azienda di shopping online, il suo nome è Banggood. Banggood è stata fondata nel 2006 e all'epoca era specializzata nella ricerca e sviluppo di software per computer. Ha spostato la propria attività verso i servizi di commercio elettronico internazionale e da allora è diventato un rivenditore online che vende quasi tutto ciò di cui si può aver bisogno o che si pensa. L'intero team di Banggood si impegna a fornire ai clienti prodotti a basso costo e di alta qualità e un servizio clienti professionale, nonché dei prezzi molto concorrenziali. Banggood è disponibile sia su Apple Store che su Google Play, quindi sui vostri smartphone. Bene ragazzi, dopo questa piccola presentazione andiamo subito al sodo. Sono a presentarvi uno smartphone di fascia alta, parliamo dello Xiaomi Mi Mix 2S. È uno smartphone dual sim con software Android 8.1 del 2018 che monta una fotocamera doppia da 12 più 12 megapixel con flash e una frontale da 5 megapixel e offre uno schermo da 5,99 pollici con 1080 x 2160 punti FHD+, di risoluzione. Xiaomi Mi Mix 2S prevede una batteria con capacità di 3400 mAh con ricarica wireless. Ha una memoria di 8 giga RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 845 octa-core a 2.8 gigabyte. Su Xiaomi Mi Mix 2S troviamo anche Bluetooth 5.0, Wi-Fi, viva voce, lettore mp3, NFC e lettore di impronte sul retro. Xiaomi Mi Mix 2S è disponibile nei colori black o white. Il prezzo più basso di Xiaomi Mi Mix 2S è di 629.95 euro. Su Banggood il prezzo che vi ho appena detto si riduce a 559 dollari che al cambio attuale equivalgono a 490 euro. Quindi una gran bella differenza tra comprarlo in un negozio e comprarlo online. Bene ragazzi dopo questa piccola presentazione vi invito ad andare a visitare banggood.com. Potete farlo comodamente utilizzando il link dello Xiaomi che ho messo in descrizione. Bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto ci vediamo alla prossima ciao